benvenuti signori in questo episodio come avete visto dal titolo sono arrivate le mie figurine mancanti dei calciatori panini 20 21 signori ancora un grazie dal duccio che me li ha inviate come è così mi ha inviato anche le adrenalin mancanti bene signori andiamo ad aprire il pacchetto un bel pacchetto grandicello gli ho ordinato praticamente un 200 figurine 210 e adesso le andiamo subito a vedere in questo video ce le vediamo tutte bene bene se riusciamo ad aprire questi pacchi eccole qua allora aspetta è un po strano la storia le ha messe all'interno di questo raccoglitorio ok stavo iniziando a pensare che magari avesse sbagliato ordine invece no le figurine le ha messe quindi tutte all'interno qua bene ancora con questa famigerata domo pack una forbicella magari a sto giro potrebbe essere molto utile cioè dietro ho spaccato una penna per aprire questo pacco bene è una domo pack rinforzata cioè ragazzi da notare il danno alla penna comunque continuiamo allora ok andiamo un po cattivi di cattiveria ha usato la confezione di questa serie che questa serie non non guardatela non calcolatela perché non penso di farlo mai che le carte sono tipo grandi così di queste premium super size non le farò mai credo e non c'è soprattutto neanche l'album un raccoglitorio per lo meno dove contenerle allora eccolo qua le ha messe tutte a pacchettini a pacchettini signori ma che bello che bella confezione che ha fatto il ragazzo grande alluccio quindi queste qua signori sono tutte le figurine mancanti bene questa ormai non ci serve più nel cestello andiamoci a vedere velocemente ovviamente ok qua già vedo che ci sono le famose c le figurine del film quelle che troveremo tipo a metà pagina la serie b beh andiamo a guardare abbastanza velocemente trio pordenonello poi triallo reggianello regginello 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 scudettello salernitanello poi trio salernitanello spallello veneziella veneziella allora vabbè comunque queste sono tutte della b poi gli scudetti della serie di b b b b e poi signori le tre figurine mancanti del film quelle che mi mancano spettacolo bene quindi mettendole diciamo già in ordine dovrebbero essere tipo così poi vediamo l'altro pacchettello 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 grazie all'altro di tutto delle figurine ancora una volta poi le andiamo a incollare anche scutett eh sì pardon le ragazze del milan femminile allora serie b serie b cittadella 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 cremonesella aspetta perché mi sa che sono un po' in ordine facciamo così cremonesella cremonesella empolella empolella leccella lr vicenza vicenzielle poi un po' di pescarelle piselle e il pordennonello che iniziava già da qua va bene comunque tanto già qua è tutta la serie b poi le andremo a ordinare poi signori altro pacchettello 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 bello bello quelle che ci mancano di più ovviamente sono più quelle della serie A allora vicenza italiano bremer ansaldella vojidovella segrella gojacchella l'adrenaline era diventato un incubo e signori andrello bellotello poi scutato di nese rodrigo beccau samir e poi fede e poi fede visola govicella gulammella lo poxchella baccaiochella Zienlischiella Lozanella Pagliatella Napolella E poi Jacoponella Bene, altro pacchettello Altro pacchettello Pacchettello Andiamo col parmello Laurinello Grassello Corticello Sommello Poi il grandissimo Andrea Scorniusselo Fabio Livriani Paolo Lopez Mara Scombulla Bruno Peres Federico Fazio Castorp Pellegrinella Zanio Lella Il re degli infortuni, poverino Mkhitaryanella Borgia Maioral Che da quando l'ho comprata al Fanta È diventata una pippa colossale Poi Edin Dzekiello Scudetel Samporiella Reginello Silvello Ianctoello E poi Antonino Detto Candrevello Bene Andiamo ad un altro pacchettello Signori Spettacolo Molto probabilmente Finalmente Finiamo la collezione Della Panini A modi miei Si risparma Veramente tanto Anziché andarle a comprare Pacchetti Su pacchetti Doppie su doppie Riusciamo a farci avere Quelle che ci mancano Se ci vogliono fare il regalo Diciamo ai nostri amici Ed è meglio Giusto? Poi comunque Siamo alla Sampa Abbiamo Larissa Skildes Gabbiadinella Quagliarella Claudio Ranieriella Poi Sassolello Chiriches Muldur Toljan Magnanelli Signori Locatelli Lopezella Diuriciccella E Berardella Ah e poi I signori Caputella Niente po' po' di meno Che Poi Skildetella Spezio Terzi Zoet Chabot Estevez Verde Giasi Fagliattella Della Speziella Penso che Altro pacchettello Apriamo Orello Devo dire Le impacchettate Davvero bene Grandissimo Oliva Pisacane Cragno Palazzo Santander Soriano Baier Danilo Etemai Squadretta Fem No scazzo Squadretta Maschilella Della Atalantella Poi signori Eccolo qui Moriallaccio Mamma mia Grande Moriall Miranciuk Sutalo Attebor Romero Plomino Caldarella Poi signori Le mie copertine Mancanti Copertinelle Mancanti Mancanti Bene Altri due Pacchettosi Signori Pacchettosi Pacchettosi Spettacolosi Poi Per lozzo Acerbella E Reina E Reina Ultimo pacchettosi Signori Queste poi Ce le andiamo ad appiccicare Tutte bene bene Le andiamo ad appiccicare assieme Ovviamente Nandez Per i Reella Così poi ci vediamo a vedere L'album tutto completo Che è più bello Comunque davvero Grazie Che siete sempre in tanti Mi iscrivete Mi mettete like Grazie davvero di cuore E questo rutto Con amore Grazie davvero ragazzi Squadetta Cagliari Poi Cicutettello Crotonello Cordazzello Cuomelo Pereirello Recaello Molinello Zanellatello Rivierello Poi Fiorentinella Carceres Igor Amberbats Gettano Castrovillarella Riberella Cotronella Poi andiamo al Genuella Con Criscitiella Zappatella Zappacostella E Pandevella E voilà signori Vi ho fatto vedere Tutte le figurine mancanti Allora Nel prossimo episodio Che sarà domani Ce le andiamo ad appiccicare Tutti assieme Intanto vi chiedo Se volete un like Se volete seguirmi Che vi piacciono i video Vi iscrivete Così vi arrivano anche le notifiche Le vedete subito E tac Signori Grazie dell'attenzione Buonanotte Buona giornata Buona mattina In qualsiasi momento Vediate questo video E signori davvero Grazie ancora di cuore E goodbye